Buon pomeriggio a tutti, io sono Simone Guzzetti, ringrazio Giulio per il giovane e oggi sono molto felice di essere qui per presentarvi la mia startup Bluvery. Bluvery è la soluzione digitale che sta cambiando il modo in cui piante e fiori vengono esportati, venduti e distribuiti all'ingrosso in Europa. L'idea viene dalla mia esperienza di oltre dieci anni nel settore a capo di aziende e di servizi B2B nel mondo floreale. L'industria floreale all'ingrosso soffre di una grossa lacuna tecnologica nei processi di vendita e distribuzione che causa inefficienze molto grosse, enormi. L'acquisizione clienti, pensate, è fatta ancora solo con agenti sul territorio, con costi quindi altissimi. La gestione manuale di tutte le operation richiede fino al triplo delle risorse necessarie e il mancato tracciamento dei prodotti rende la logistica inefficiente e fuori controllo. Questo ovviamente ha effetti a valle sulla catena, sulla supply chain e effetti sui clienti. Infatti i fioristi sopportano costi di prodotto molto alti e spesso devono sopportare minimi d'ordine che non possono permettersi nell'acquisto. Hanno accesso a una selezione molto povera di prodotti a causa principalmente della deperibilità degli stessi e quindi del fatto che i grossisti non si approvvigionano di varietà strane e soprattutto ricevono un servizio molto lento e lasciato spesso all'improvvisazione. Bluvery è la risposta a tutti questi problemi. La piattaforma che abbiamo sviluppato durante l'accelerazione in soli due mesi ci permette di acquisire clienti in modo totalmente digitale con un costo che è fino a un quarto rispetto a quello dei nostri concorrenti. I nostri clienti, i fioristi, hanno un'esperienza d'acquisto in totale self-provisioning dalla registrazione fino al pagamento dell'ordine e possono accedere ad un catalogo tutti i giorni di oltre 15.000 prodotti fra piante e fiori ad un prezzo che è fino al 30% inferiore rispetto al prezzo di mercato e senza nessun minimo d'ordine. Ma non è tutto perché Bluvery è anche la prima piattaforma esterna integrata direttamente con le aste olandesi che se non lo sapete sono il centro mondiale commerciale del settore floreale. Questo ci permette di avere cataloghi sincronizzati in tempo reale per aggiornare prezzi e quantità che variano ogni minuto e ci permette anche di tracciare i prodotti e consegnarli direttamente e capillarmente ai nostri clienti con un sistema di logistica end-to-end che combina vettori import-export con distributori specializzati nella logistica ultimo miglio. Questa soluzione ci ha portato a dei risultati già solidi e in forte crescita. Noi abbiamo già totalizzato da quando abbiamo iniziato oltre 260.000 euro di fatturato, di revenue da un totale di 85 clienti B2B e quindi ricorsivi perché ricordatevi il fiorista compra fiori tutte le settimane. La marginalità del 12% invece soffre di un'iniziale inefficienza logistica ma abbiamo già un piano per portarla oltre il 20% in brevissimo tempo. Durante l'accelerazione abbiamo anche aumentato il fatturato medio negli ultimi tre mesi di oltre l'80% e l'acquisizione media di nuovi clienti del 76%. Oltre il 20%, quindi oltre un quinto dei nostri clienti ci è già molto fedele e utilizza Blueberry come fornitore primario e non come fornitore occasionale. E infine acquisiamo i clienti, come dicevo prima, a un quarto rispetto ai nostri competitor. Questo ci rende la realtà più interessante in un settore che ha forti potenzialità di innovazione che vale 14 miliardi di euro in Europa e 9 nei 5 mercati principali. In questo contesto competitivo Blueberry può puntare ad una quota di mercato del 5% e diventare leader del settore. Con la nostra tecnologia riusciamo a rifornire tutti i fioristi anche i più piccoli e decentrati con un catalogo praticamente infinito di prodotti. E questo ci posiziona laddove i nostri competitor, sia i grossisti tradizionali, sia gli esportatori olandesi, non riescono ad arrivare. Per restare sempre un passo avanti abbiamo ovviamente bisogno di un team con esperienza e con una capacità di execution chiara e veloce. Oltre a me, di cui vi ho già parlato, vi aggiungo solo che oltre all'esperienza nel campo io ho avuto anche una precedente esperienza come responsabile del sito e-commerce di Vodafone Italia quando l'e-commerce era agli albori. Oltre a me, dicevo, c'è Michele, che è il mio socio, che ha una lunghissima esperienza anche in marketing in Vodafone e ormai è anche un profondo conoscitore dei fioristi. C'è poi il team tecnico con Daniele a capo del team tecnico che viene da un'importante esperienza in WeRoad e Simone che ha fatto sviluppo in aziende come Motorkey e Ux. Insieme l'anno prossimo puntiamo ad automatizzare completamente il processo logistico per mettere la logistica sotto controllo, aprire in due mercati nuovi, Francia e Spagna e puntiamo a un milione di euro di fatturato. L'anno successivo la sfida sarà quella di digitalizzare completamente l'asta dei fiori, aprire nei due mercati principali, UK e Germania e puntiamo a 5 milioni di revenue. Nel futuro l'intenzione è quella di crescere sempre di più e diventare il riferimento in Europa per la vendita di fiori all'ingrosso. Cerchiamo persone che credano nel progetto Blueberry e investano 400 mila euro da impiegare principalmente nello sviluppo del prodotto e nel marketing. Quindi vi invito tutti quanti ad investire in Blueberry perché siamo un team in grado di fare ciò che è necessario per portare Blueberry al successo, perché siamo i primi ad innovare in questo settore e soprattutto perché è il momento giusto per farlo, perché abbiamo già dei risultati solidi ed in forte crescita ed infine perché i fiori portano un po' di colore nelle vite di tutti noi. Grazie. Grazie.